Hai appena acquistato un pc da gaming? Ecco tre cose da fare assolutamente prima di iniziare. 1. Se hai una scheda video, sicuro di aver inserito il cavo del monitor in queste porte orizzontali e non in queste verticali. 2. Se hai un monitor con un buono refresh rate, controlla di averlo impostato nella maniera corretta con questi piccoli passaggi. Pasto destro, impostazioni schermo, impostazioni schermo avanzate ed ora imposta la frequenza di aggiornamento giusta. 3. Cerca di tenerlo in un posto rialzato e non sotto la scrivania, così da evitare che accumuli troppa polvere che non consentirà un corretto airflow. Di conseguenza farà surriscaldare il tuo pc andando a rovinare piano piano tutti i componenti. Ora che sai come iniziare lascia un seguito al canale perché ti darò tantissime dritte su come ottimizzarlo.